Vado in Wüttemberg, Bruxelles, Germania, pochi giorni a Natale, siamo in Germania, gli stipendi in Germania sono molto più alti, sono più alti, quasi il doppio che l'Italia, però costa tutto molto di più per l'italiano, il pitetto, quello che è sempre seduto sul suo bel sediolone, sul suo bel culone, col suo pc che gira il mondo con Facebook, con Google Maps, quelli che fanno gli studi sono i belli seduti, qui costa tutto molto di più in Germania, ma stai scherzando, a parte che ho comprato un po' di cosili per i nipoti giustamente, fa molto tutto di più. Listerine è un euro e 95, sì ma senza stare lì che ne infadri bene, gli dico i prezzi, non vogliamo perdere, listerine è un euro e 95, una cassiera la guadagna 1.800 al mese, un operaio 2007-2008, quest'anno prendono un primo riproduzione a Volkswagen di 4.500 euro, di quattordicesima, più la tredicesima di tassata, stipendi medi di un operaio in fabbrica, proprio uno del cazzo che tira su, 2005-2007, possiamo perdere autostate gratis, sanità, tutto, però in Germania la vita costa molto di più, ok, va credo, se no va affatto, sensodine 2 euro, 0,39 di dentifrici, quelli, questi qui, sensodine lì, quello sensitive dento, vediamoli, senza che stai lì a fare il quadratore, intanto gli dico io tutto, qui va bene, i deodoranti, quello che costa di più 1,50 euro, andiamo di là, andiamo in settore di qui, ah, andiamo in qui, eh, do, ci schieme, niva, 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 dov, ro, bo, quello che costa di più 1,45 euro, ah, ok, garnier, 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 body, garnier body, in Italia so che costa 5 euro qualcosa, qui costa 2,95 euro, 2,95, perché, perché la vita costa molto di più in Germania, ricordate, guadagnano molto di più, ma per il culone flacido, ma la vita costa molto, ah, 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 frutti, 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 cazzo in culo, 1 euro qualcosa, qua, davanti, 1 euro, poi andiamo per papi, vediamo che andiamo, vado per papi, sulle nuove, per i nipoti, qui, 0,70, 0,55, lì, quanto è? 0,55, 0,55 e prodotti questi, poi, pannolini dove sono? Andiamo dai pannolini a far vedere, papi, spero, vado, papi che va un pacco di pannolini da 42, 4,95 euro, la prossima volta te li porto il pacco, perché qua sono poveri, no ma qua sono poveri, andiamo un attimo nella povertà, la bambola per la nipote 3,90 euro, adesso andiamo nel settore, andiamo nel settore per Beppe, Beppe Pastorelli che lui è un atleta, anche per mia madre che adesso gli prendo qualcosa, bevande queste dietetiche lì, vitamina C, 0,90 euro, confezione di 60 capsule maniso 400, 2,75 euro, le stesse in Italia le prende mia madre, 15,90 euro, 2,75 euro, perché qua sono poveri, e poi la benzina, quella paga 30 centesimi, è vero, sempre perché in Italia sono ricchi, sono ricchi, la commessa guadagnerà 8-900 euro al mese, poi sono ricchi, ah beh, qui la situazione di tempo, quindi un chilo di proteine al 90%, roba che è roba, 14,90 euro, 14,90 euro, quant'è che cosa sono queste qua, mi sembrava, 45, ah sì, le barrette multivitaminiche di proteine di proteine, 0,49 euro, queste le vediamo in palestra, costano un paio di euro, quelle più professionali, queste, 0,79, quelle che costano di più, 0,79, 35% di proteine, 0,79, ah creatina 3.900, 9 euro, confezione di uomo maltina per uomo 3 euro, confezione Isostar, Isostar Energy Sport Power 0,90, vediamo se troviamo qualcosa d'altro, figa, di là ci sono i cioccolati che vedevo che comunque costavano meno della metà, che in Italia, queste sono le vitamine C, 0,99, multivitamini grobo 1,95, questi, questi, questo è il top, vai giù un attimo, questi sono sicuro, no, no, vai giù, vai giù un attimo, questi sono sicuro, non al 100%, perché li prendo, li prendo anch'io per mia madre, mia zia, la vitamina C, così le prendo anch'io, cioè le prendo anch'io, qui le prendo, perché non le prendo in Italia, questi sono sicuri al 100%, non in farmacia, ma all'Ocean, quei centri commerciali di così, costano tutte queste, c'è vitamina calcio, vitamina C, ferro più magnesio, euro, costano tutti, dai 4 ai 5 euro, tutti costano, tutti costano, tutti costano, tutti 4 ai 5 euro, quella che trovi meno, 3 euro, anche il bene trovo, guarda i prezzi qua di quanto costano, 0,45, vieni qua, 0,45, 0,45, 0,9, 0,45, 0,45, 0,45, 0,79, 0,79, vitamina più calcio un saluto a tutti, viva l'Italia, l'importante è sempre stare lì belli seduti, sempre lì sul divanone, col suo bel culo placido, a spantegare, a credere, a pontificare, continuate così, continuate così, siete i numeri uno, cioè siete i più grandi d'Europa, perché in Germania, beh, in Germania guadagnano bene un operaio, il 2003, il 2000, i stipendi sono molto più alti, ma il costo della vita, il costo della vita, è molto molto più alto il costo della vita, il costo della vita è un terzo che in Italia, il costo della vita è molto molto più alto, è tanetto che l'ho tenuto qua, se fosse già se l'ho buttato via, il costo della vita è molto più alto, io lui, ieri sera, pizzeria, qua, prezzo? 15 euro e 50, ok, 15 euro e 50, leggilo, ok, teni fermo, teni fermo, no, teni fermo, è più alto, più alto, pizzeria qua, qua, ti dico anche il posto, Kaiser Jobstrap Sfile, ok, allora, 15 euro e 50, allora, una birra media al Papa, una fanta media al segretario di stato, due pizza salame, una pizza salame, più peperoni e un dolce, 15 euro e 50, scusa, 15 euro e 50, ok, ok, va bene? Ok, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Piteco, continuate la Germania, a Regemonia, fidaci, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.